La scuola di ieri, oggi e domani, il ruolo degli insegnanti, della politica, delle famiglie. Se ne è discusso all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e a margine della presentazione dell'ultimo libro di Ernesto Galli della Loggia, L'aula vuota come l'Italia ha distrutto la scuola. Tra memoria personale e analisi storica, l'autore nel saggio rilegge e racconta la parabola discendente di quello che per anni è stato un sistema di istruzione invidiabile nel mondo. Un viaggio affascinante che attinge ai testi dei riformatori e dei rivoluzionari per mettere ordine nel più grande malinteso della nostra storia recente. Dagli anni 70 in poi si sono succedute molte riforme, direi anche troppe, praticamente uno ogni due o tre anni che hanno completamente cambiato il panorama, hanno trasformato la scuola di un tempo che andava trasformata. Questo bisogna sottolinearlo perché era una scuola per un altro tipo di società, per un altro tipo di paese, era una scuola per una società molto classista che escludeva praticamente i figli della povera gente e invece bisognava cambiarla questa scuola, farne una scuola democratica per una società di massa quella appunto siamo diventati verso gli anni 60-70. Solo che questo cambiamento necessario e opportuno è stato fatto male, come spesso capita in Italia. Ma di chi le colpe maggiori di un'istituzione oramai allo sbando? Provano a spiegarlo Roberto Dante Cogliandro, notaio e direttore della Gazzetta Forense, Donatella Marotta, direttore della scuola Belforte e Aldo De Chiara, giudice della consulta della legalità. Sicuramente l'eccessiva democraticizzazione del sistema scolastico, i rapporti tra docenti, tra docenti e eccessivo coinvolgimento dei genitori e delle famiglie ha creato un processo irreversibile dove sostanzialmente l'autoritarismo della maestra, del maestro, del preside della scuola è ormai in declino. Effettivamente non si può dare un messaggio a scuola ai bambini e un altro messaggio a casa. Si boccia di meno, ma quello che devo sottolineare che condivido in toto è la crisi del principio di autorità. Oggi gli studenti, e le cronache ce lo segnavano, spesso compiono atti di intolleranza nei confronti degli insegnanti e questo la dice lunga sulla prospettiva della scuola italiana.